Dopo l'uscita dalla maggioranza nel Comune di Ladispoli, Sinistra Ecologia e Libertà è entrata in una fase di proposizione politica, con idee chiare e punti fermi per quanto riguarda le elezioni amministrative che si terranno nella prossima primavera. Abbiamo ascoltato il parere della consigliera comunale Francesca Di Girolamo del SEL, che rivendica un ruolo attivo per il suo gruppo politico, pur rimanendo ferma nella posizione di essere Fuori dalla maggioranza che amministra il Comune di Ladispoli attualmente, ma completamente interessati a quello che sta accadendo nella nostra città e completamente all'interno di alcune dinamiche che riteniamo importanti. Non mi sembra che il quadro d'agosto, oltre la nostra uscita, sia cambiato molto, nonostante il rimpasto avvenuto e nonostante i vari cambiamenti che sono intervenuti. In questo breve arco temporale c'è stato un tentativo di riavvicinamento da parte del Sindaco Pagliotta? Il problema non credo sia il tentativo di riavvicinamento se c'è stato o no, credo che siano le modalità con cui si tenta di tornare ad un dialogo e in questo caso devo dire di no, perché ci sono state richieste di incontri ma senza cambiare i termini della discussione, quindi questo è un argomento che non ci interessa. Vi posso dire però che siamo stati noi stessi come Sinistra Ecologia e Libertà a scrivere solo qualche giorno fa una lettera indirizzata alle segreterie politiche dei partiti che compongono la maggioranza di Ladispoli per organizzare degli incontri bilaterali, quindi faccia a faccia, sia per discutere delle tematiche che hanno deciso di utilizzare per arrivare a fine mandato e sia per discutere di un discorso di prospettiva, non in termini di alleanze, bensì in termini proprio pratici di tematiche di interesse cittadino. Ecco, uno dei vostri punti focali delle vostre battaglie riguarda il conflitto di interessi che, secondo il vostro parere, c'è anche qui nel Comune di Ladispoli. Sì, non credo che sia soltanto secondo il nostro parere, visto che ci siamo trovati nel tempo di fronte ad atti importanti per un'amministrazione, penso all'approvazione della variante al piano regolatore generale, in cui diversi consiglieri che siedono tra i banchi del nostro Consiglio Comunale non hanno potuto espletare il loro mandato proprio per la presenza di una conflittualità interna. Questo è un esempio pratico per spiegare che riteniamo come a livello nazionale e anche a livello locale che risolvere il conflitto di interessi che purtroppo molto spesso alberga nelle aule della politica sia uno dei punti importanti da cui ripartire, sia per riconquistare un terreno di interesse per la città nei confronti della politica sia perché la politica possa rigenerarsi in qualche modo, nelle sue forme e nei suoi modi. Non a caso un paio di mesi fa abbiamo fatto una prima uscita pubblica insieme anche all'Italia dei Valori firmando un documento congiunto insieme ai socialisti e alla Federazione della Sinistra firmando un documento congiunto che appunto chiedesse di affrontare in maniera limpida e aperta la questione del conflitto di interessi per poterla risolvere anche in prospettiva delle prossime elezioni e come SEL abbiamo già lanciato attraverso i canali telematici, attraverso i social network lo faremo presto anche pubblicamente attraverso un'assemblea una nostra proposta che va a tutta la città e a tutte le forze politiche della città di centrodestra e di centrosinistra indistintamente che è l'idea delle liste pulite, dove il pulite non è da intendersi diciamo con alla di Pietro diciamo con una memoria dai taglia dei valori ma è da intendersi con l'intento comune di chiunque partecipi alle elezioni del prossimo anno di garantire un ricambio all'interno delle liste quindi assenza di conflitto di interessi al momento dell'accettazione della candidatura nessuna pendenza giudiziaria e soprattutto un blocco al secondo mandato cioè chi ha effettuato già due mandati non può essere ricandidato per effettuarne un terzo le poltrone non sono private, l'amministrazione è della città e è la città che deve poter amministrare se stessa Consigliere Di Girolamo, è un'utopia considerare che la Dispoli sia in mano ai costruttori? Non è un'utopia assolutamente credo che la crisi economica che sta investendo l'Italia darà la prima risposta a questo non penso che le città possano più basarsi sull'aumento del mattone perché sarà necessario ripartire da altri tipi di iniziative e da altri binari immagino la cultura e l'attenzione per il sociale e credo che sarà, se non importante per le amministrazioni, obbligatorio Un'ultima domanda, l'aumento della Tarsu come giudicate l'ordinanza che vede l'aumento della tassazione sulla nettezza urbana? Non siamo stati favorevoli sin dall'inizio a vessare ulteriormente i cittadini con quest'aumento del 20% in fase di discussione della proposta di bilancio avevamo già fatto le nostre controproposte che andassero ad incidere su altri settori anche se il discorso doveva essere di prospettiva e forse è mancato proprio quello e che non andassero quindi a toccare nuovamente le tasche dei cittadini che sono già abbastanza svuotate da quello che accade a livello nazionale